Dopo una buona colazione, via che si parte verso il nostro laboratorio di idee. Ci piace fare tutto da soli. È l'unico modo per poter coordinare e integrare al meglio ogni singolo dettaglio. Proviamo, sperimentiamo, non ci arrendiamo mai. Questo è il nostro motto. Ma ciò che ci soddisfa più di tutto è creare qualcosa di nuovo e vedere le nostre idee diventare realtà. Con la nuova linea di fresatrici Comfort M2 abbiamo centrato ancora una volta il nostro obiettivo. La gamma include cinque diverse fresatrici con una o due camere di fresatura. Tutti i materiali dentali possono essere lavorati con alta precisione e abbiamo la certezza che tutto funziona al meglio. Il pezzo forte è la nuova Telescope Orbit. Un'orbita ad alta precisione progettata sulla base della nostra ormai collaudata tecnologia di fresatura ad assi simultanei. Siamo stati la prima azienda odontotecnica a sviluppare una tecnologia di fresatura 5 più 1 assi per la lavorazione dei materiali dentali e naturalmente l'abbiamo adattata alla nuova Telescope Orbit. Questa orbita speciale può essere installata in una o in entrambe le camere di fresatura delle macchine M2 e conferisce un elevato grado di flessibilità ed efficienza. Per la prima volta in combinazione con diversi supporti speciali è possibile lavorare blocchi di materiale dal diametro di 95, 98, 106 e persino 125 mm. Questo significa che ora possono essere fresati anche ponti particolarmente grandi che non rientrerebbero nei blocchi standard. Rispetto a prima, in un unico processo di fresatura si può produrre addirittura una quantità doppia di byte e un numero significativamente maggiore di corone. Abbiamo anche sviluppato supporti speciali per fresare blocchi di vetro ceramica, raw abutment e piccoli blocchi di zirconia. Il supporto multi-blank holder è particolarmente vantaggioso. In un solo processo di fresatura permette di produrre fino a 7 corone singole in tonalità poco utilizzate. In questo modo non solo si possono produrre corone per 7 diversi pazienti in una volta sola, ma grazie alle piccole dimensioni dei blocchi non è più necessario tenere in magazzino scorte di materiali in colori raramente richiesti. Naturalmente, questo porta anche a un risparmio sui costi. Ma non è tutto. Sono tanti i piccoli dettagli che rendono la nostra fresatrice così speciale. Grazie a questo cassetto è possibile tenere sempre a portata di mano i cacciaviti per il fissaggio dei blocchi in orbita e il set di calibrazione per l'allineamento preciso della macchina. La fresatrice è caratterizzata da una sospensione a doppio cuscinetto a sfere particolarmente stabile e da un potente mandrino di dimensioni molto corte che conferiscono alla macchina un'elevata resistenza alle vibrazioni. In questo modo è possibile fresare superfici molto lisce, un aspetto importante per i lavori telescopici. Le nostre fresatrici le assembliamo da soli, prestando molta attenzione alla precisione e all'ordine interno della macchina. Inoltre, siamo sempre noi che sviluppiamo i circuiti stampati, le componenti elettroniche e persino il software per garantire la massima efficienza durante la fresatura. Prima che la macchina ci lasci, la controlliamo di nuovo a fondo. Carichiamo con le nostre frese gli appositi magazzini per gli utensili, che offrono fino a 63 alloggiamenti. Misuriamo con precisione gli assi di fresatura e regoliamo tutto alla perfezione. Il PC con touchscreen integrato nella fresatrice permette non solo di selezionare i blocchi di materiale e le frese con la funzione drag and drop, ma anche di avviare i processi di fresatura e verificare se le funzionalità di cambio utensili automatico e di identificazione ottica delle frese funzionano correttamente. Una telecamera speciale rileva e controlla la fresa tramite un codice QR, assicurando l'utilizzo dello strumento corretto per ogni ciclo di fresatura. La macchina fresa senza problemi il chrome cobalt, il nostro materiale più duro, e grazie alla funzione di lavorazione a umido integrata può fresare anche tutti i tipi di titanio. Il liquido refrigerante integrato nel mandrino aiuta a mantenere pulita la camera di fresatura e a raffreddare in modo ottimale le frese e i materiali come il titanio e la vetro ceramica. Al termine della lavorazione la struttura è pulita ad aria e la camera di fresatura è asciugata. Sul richiesta è possibile installare lo ionizzatore. Durante la fresatura delle resine esso previene il caricamento elettrostatico dei truccioli per mantenere l'aria di fresatura più pulita. Potete notare qui la differenza. A destra l'ionizzatore non è stato utilizzato. A sinistra sì. Per la pulizia finale abbiamo dotato la macchina di un pratico kit di pulizia con aspiratore e doccia. L'aspiratore serve a rimuovere i residui della lavorazione a secco, mentre la doccia con un circuito separato per l'acqua senza olio può essere utilizzata per pulire l'impianto. All'interno della camera di fresatura è rimuovere i residui di olio del liquido refrigerante. È davvero tutto pronto. Manca solo da montare il vetro di sicurezza esterno. Anche in questo caso abbiamo dato importanza alla personalizzazione. L'utente può progettare il rivestimento da solo e quindi adattare perfettamente la fresatrice all'ambiente circostante. Possiamo esserne sicuri. Il cliente sarà felice e soddisfatto di lavorare con la massima qualità e precisione. Ora ci dirigiamo verso gli altri siti di produzione, dove fabbrichiamo le frese e le componenti per le nostre macchine. È importante che tutti condividiamo le nostre abilità. Solo così possiamo raggiungere i migliori risultati. In questo luogo abbiamo un parco macchine CNC polivalente professionale, con sistemi di tornitura, molatura, fresatura e di rivestimento. Qui, con tecniche ad alta precisione, produciamo i nostri raw abutments, le frese, le basi in e le diverse componenti delle nostre macchine. Anche un minimo scostamento può compromettere la qualità finale. Pertanto, tutte le frese sono rigorosamente controllate, con tecniche di misurazione ad alta precisione. Gli utensili sono adattati in modo ottimale alla lavorazione dei vari materiali e garantiscono qualità e ripetibilità. Nel corso degli anni abbiamo costruito con costanza il nostro bagaglio di conoscenze necessarie. L'obiettivo principale del nostro lavoro è di offrire qualità, perfezione, precisione e soluzioni intelligenti al giusto prezzo. Lo sviluppo è un processo continuo e, grazie alla nostra costante dedizione, possiamo conseguire ogni giorno un livello sempre più alto. Onoriamo la nostra professione e la nostra arte. Tutto questo ci ricompensa di un'enorme felicità, rafforzata dalle tradizioni e dai valori della nostra patria. La nostra ricerca della perfezione fin nei minimi dettagli arriva fino al micron. Questa è l'essenza del nostro lavoro. Siamo imparziali nella nostra ricerca di soluzioni pratiche e non convenzionali. Un processo di produzione standardizzato. L'accuratezza e il rigore sono i nostri strumenti. E il nostro impegno in nome della qualità è la nostra forza trainante. Amiamo le soluzioni flessibili perché ci fanno sentire liberi. Per questo è importante che le nostre fresatrici possano essere controllate anche a distanza, tramite la loro applicazione. Le fresatrici inviano all'utente report automatici e lo informano non appena il processo di fresatura è concluso. L'utente viene avvisato anche in caso di interruzioni, in modo da poter intervenire al più presto. Osservate queste corone telescopiche realizzate con la fresatrice M2 dual telescoper. L'attrito è stato regolato dalla macchina. Le corone si adattano perfettamente l'una all'altra senza bisogno di alcuna rielaborazione. Se necessario, i blocchi con le strutture fresate possono essere montati nuovamente nell'orbita intercambiabile, nella stessa posizione, con una precisione dell'ordine del micron. È per ottenere risultati come questi che diamo il meglio di noi. Ci riempiono di fierezza e di gratificazione. Insieme, forgiamo idee, creiamo concetti e lavoriamo intensamente per realizzarli, perché i nostri clienti possano essere i migliori. Amiamo quello che facciamo e questa gioia vogliamo condividerla con voi.